Amici soft libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova video guida, chiamiamola così, con una serie di consigli che vi andrò a illustrare riguardanti Gnome Shell, con una serie di estensioni e di ottimizzazioni che io vado a portare a Gnome Shell per renderlo più usabile. Come potete vedere sono su una installazione liscia di Gnome, nella fattispecie potete ammirare che sono su Debian 12 Stable, per cui ho installato Debian 12 Stable quest'oggi non lo so, forse perché sto facendo roba bianca e quindi di conseguenza mi sto iniziando a guardare intorno e sto iniziando a pensare di installare Debian come tutti i vecchietti informatici, i vecchietti che utilizzano Linux, vabbè, vediamo quali sono le ottimizzazioni che io vado a portare a Gnome Shell per renderlo usabile, che sono ottimizzazioni che trovate già di default su alcune distribuzioni come Ubuntu o PopOS. Allora, la prima cosa che io vado a fare innanzitutto è quella di ripristinare i pulsanti, vi faccio vedere qui, per minimizzare e chiudere, anzi minimizzare e massimizzare perché chiudere c'è già. Perché? Perché sono molto comodi, perché mi piace minimizzare le applicazioni direttamente, perché devo fare il doppio clic qua sopra, sì è comodo, sì, fino ad un certo punto, perché devi andare a fare in questo spazzetto bianco, lo puoi fare nello spazzetto qua, non funziona. E quindi è molto scomodo a mio avviso. E vi faccio vedere come si fa. Nelle impostazioni la prima cosa che andiamo a fare è andiamo a cercare personalizzazioni. Gnome Twix, il pacchetto lo trovate preinstallato sulla maggior parte delle distribuzioni, su Debian ad esempio, è già preinstallato, altrimenti vi basterà cercare Gnome Twix e installarlo. Ecco, qui è possibile abilitare il pulsante per massimizzare e quello per minimizzare. Ecco, vedi quanto è bello? C'è il pulsantino, funziona tutto come si deve. Quindi questa è la prima cosa che vado a fare. La seconda cosa che vado a fare è installare una serie di estensioni. Per installare queste estensioni vi consiglio di utilizzare un tool, un'applicazione in formato flat-top-h, che magari vi lascio il link in descrizione, che serve per andare a cercare le estensioni. Questo ha questo gestore di estensioni, che si chiama gestore di estensioni ed è realizzato da Matthew Jackerman. Lo trovate su flat-tab e una volta installato vi consente, come potete vedere, di cercare estensioni. Volete che ne sono qualche cosa per ad hoc? Trovate tutte quante le estensioni e poi potete installarle con un clic. Quali sono le estensioni che io vado a installare? La prima è subito questa qui, App Indicator and K Status Notifier Item Support. Che cosa fa? Aggiunge l'icona nella try. Ed è una cosa che tutti quanti, che desktop environment dovrebbero avere, anche GNOME dovrebbero avere di default. Nelle impostazioni di questa applicazione è possibile abilitare, ad esempio, il supporto per legacy tra icon. Possibile modificare l'allineamento orizzontale della system tray, a destra, a sinistra, come volete voi. E poi potete andare a modificare altri parametri, la desaturazione, luminosità, quindi proprio in modo in cui appaiono poi le notifiche qui in alto, a destra. L'altra estensione che io vado a installare è Dash2Doc. Dash2Doc è una estensione che va a introdurre la doc. Una doc che di default, vedete, è configurata anche con l'interiade, quindi se mettete qualcosa a tutto schermo sparisce. Qui vi basterà mettere il mouse in basso per ripristinarla. E vi faccio vedere adesso io come la configuro questa estensione. Torniamo qui e vi faccio vedere. Questo lo possiamo chiudere. Dash2Doc lo configuro in questa maniera. Lascio l'interiade, anche se potete anche metterlo fisso, così come viene fatto su, che ne so, su PropOS. Qui lascio tutto praticamente di default, anche qui. L'altra cosa che vado a modificare è spuntare questa voce, riduce la Dash, in modo tale da ridurre leggermente le dimensioni, quindi diminuisce lo spazio vuoto. E vado a spuntare questa altra voce, utilizza tema integrato, in modo tale da adattare al tema di GNOME che sto utilizzando in quel momento. Quindi due settaggi in croce vado a modificare. Infine l'altra estensione che sto andando a installare ultimamente è Just Perfection. Cosa fa Just Perfection? Just Perfection è un'estensione che vi consente di andare a modificare il comportamento di alcuni parametri del pannello superiore. E in questo caso io vado a modificare, come potete vedere, la posizione dell'orologio. Di default ve lo trovate al centro su GNOME. Io preferisco metterlo a destra. Questo qui è lo spostamento della posizione dell'orologio, per esempio, se lo mettete a zero vi appare qui. Se lo mettete al massimo a 20 ve lo ritrovate sulla destra. L'altra cosa che vado a modificare è la posizione delle notifiche on screen display. Di default vedete che succede. Se io vado a alzare il volume vi compare qui in basso. Però potete modificarlo, che ne so. Mettete in alto a destra. Mettendolo in alto a destra vi compare lì ed è più armonioso. E l'ultima cosa che vado a modificare è la posizione del banner delle notifiche. Anche in questo caso vado a posizionarlo in alto a destra. Queste sono le ottimizzazioni che vado a fare. Sono ottimizzazioni basilari, però rendono GNOME e Shell più utilizzabile. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se fate anche voi tutte queste modifiche o preferite utilizzare la Shell nuda e cruda.